In Kenya la cooperazione italiana lavora per promuovere le donne e il loro ruolo nella sicurezza alimentare, in quanto produttori agricoli e anche promotori di piccole attività di commercializzazione dei prodotti. La cooperazione italiana è presente in Kenya da alcuni anni nei settori dello sviluppo rurale e delle risorse idriche. Da anni porta avanti un progetto di particolare successo nell'area del West Pocot, indirizzato al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Si tratta di un'area classificata come arida e semi-arida e infatti il nostro progetto interviene con un approccio integrato per promuovere la produzione agricola attraverso il miglioramento dei sistemi di irrigazione. Rurale e di un'area classificata. Io sono due. Io sono due. Perchè la sua prima volta è la sua casa. Ma io sono due a teare, E io sono due a mezz'arraggio. Mi ha visto che io sono due a mezz'arraggio. E io sono due a teare ma come un'arraggio. E io sono due a teare. In Italia. Il nostro corso italiano, è stato un po' di rilevazione, è stato un po' di rilevazione, e quello che è stato un po' di rilevazione. Come vanno, vanno a rilevare. Il corso italiano è stato un po' di rilevazione. La scuola è stata un po' di rilevazione anziana. e ci sono chiesti di italiani che ci sono stati di farlo. Questo è un trinassare che ci sono stati di panna, maembe, e ci sono stati di un'inji, ci sono stati di un'inji, Sigur, Mzima, Semusa, Lodwa, Kapenguria. Qua il bèi ya chini sana. Wanapata maembe, il matunda maembe. Wanauza, wana kusomesha watoto. Wanapata maembe, il matunda maembe, il matunda maembe, il matunda maembe.